musica 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 e tutti i biglietti ragazzi no, non so scordi ma cosa fai, andiamo in gita ma come me proprio a Borglese? ma che le tere ne so pochè dal sito e vi non so tutti che coi il permacentor e che dobali fighetti ma vieni anche qua il Borglese? beh, veda un po' tì vi non so anche coi il versi che ha appena finito per la legna vi non coi dal montanera? e in polo miga mancher perché hai mataccato niente? ah, che ratico, voi che sappimi e che anche la compagnia della cittadella ah beh, allora e che anche coi della cosetta coi il piazzale Pablo buona volta per cortesia Aldo Ivano Mavrissi Svanè e che i vespisti e fognati epla e coi il Leonardo e il portale Bio Bio bravo Gerardo che dopo a godanderda l'amorosa e poi coi il sorbol che è un coi che ha in principio è tutto secondo me Claudio andiamo a sapere dei botti da oro e loro andem a' al bar ciao 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 cimic